Peso forma in modo semplice, gratificante e divertente attraverso un'alimentazione equilibrata e personalizzata. I consigli sono nel manuale di dietetica del biologo Salvatore Baiamonte dello chef Joseph Puma. Il volume è edito dalla casa editrice Hobby & Work e si intitola La dieta perfetta. Il manuale sarà presentato sabato prossimo alle ore 17 al Castello Chiaramonte di Fabana. Oltre agli autori Baiamonte Puma interverranno il sindaco Domenico Russello ed il biologo nutrizionista Dino Virgo nelle interviste di Carmelo Lazzaro. Vediamo. Dottore Baiamonte, allora esiste la dieta perfetta? La dieta perfetta dal punto di vista di alimenti veramente no, perché è perfetto far girare tutti gli alimenti che è la natura dalla disposizione dell'uomo in modo che i 40 nutrienti che si trovano gli alimenti possano essere utilizzati tutti. Il titolo che ha scelto il mio editore non è un titolo provocatorio, ma è anche il giusto, perché il signor Zanga, che è il rappresentante legale della Hobby Work, ha capito meglio di me prima il libro come combinato, nel senso che esiste il perfetto bilanciamento energetico. Io do delle indicazioni precise e faccio riferimento al primo principio della termodinamica e al secondo principio, che sarebbe il principio della conservazione dell'energia e il disordine che poi viene all'esterno. Cioè l'uomo impiega energia per ordinare tutto il suo meccanismo fisiologico normale, a condizioni normali, e poi all'esterno emette acqua e CO2, che non è altro il disordine esterno, è la degradazione dell'energia. Questo disordine è però quello che effettivamente voglio dire nel mio libro, quello che cerco di far capire alle persone, alle lettrici, ai lettori, che questo disordine soprattutto è creato dal metabolismo basale. Cioè devono considerare sempre come migliore alleato, come proprio amico durante la dieta, è il metabolismo basale e non il semplice sforzo fisico, perché lo sforzo fisico effettivamente rappresenta il 20% del fabbisogno energetico di cui ha bisogno l'uomo durante il giorno. Diciamo che la dieta non deve essere considerata come praticamente un regime dietetico, ma deve essere considerata come diciamo una sana alimentazione di sani principi nutritivi, cioè una corretta assunzione di sani principi nutrienti. Importanza infatti quando noi biologo nutrizionista ha il compito di elaborare una dieta, l'elaborano anche in base a delle condizioni, condizioni che possono essere fisiologiche, come nel caso in cui noi non possiamo dare delle calorie ad una persona che svolge una vita sedentaria di più di una persona che svolge una vita sportiva. Ci sono altri tipi di condizioni che valutiamo, come nel caso delle condizioni patologiche, disturbi intestinali, come la colite, la gastrite, oppure anche delle condizioni climatiche, come il freddo e il caldo. Quindi da tutto ciò nasce la dieta perfetta, cioè quando si parla di dieta non si parla solo di misurazione, di grammi, diciamo, di sostanze, di alimenti, ma si parla soprattutto anche di come comportarsi con gli alimenti, come mangiarli, mangiarli lentamente, come cucinarli. E il libro contiene anche delle ricette. Esatto, su precise indicazioni del dottore Pajamonte, mi sono prodigato a sviluppare delle ricette che sono molto semplici da preparare, gustose, succulenti, un modo per dare delle indicazioni a tutti coloro che ci leggeranno come si può proporre cibi e alimenti di diverso genere e quindi sposarli assieme per realizzare dei bei piatti. E siamo giunti allo sport.